... Apriamo il giornale con gli appuntamenti nazionali. Domenica 13 gennaio a Vigevano in provincia di Pavia, presso il Palazzetto dello Sport, avrà luogo il tredicesimo concorso Fantastic Dance Open, competizione nazionale per l'iscio standard latino-americane, danze caraibiche e ballo da sala. E sempre il 13 gennaio a Giaveno in provincia di Torino, a cura della SC, ente di promozione sportiva, si svolgerà il settimo Dance Energy Cup presso il Palazzetto dello Sport dell'omonima cittadina. Il 20 gennaio, invece, a Schio, in provincia di Vicenza, avrà luogo il concorso nazionale ventesimo trofeo Città di Schio. Le competizioni per standard, liscio, latino e ballo da sala e tutte le altre categorie si svolgeranno presso il Palazzetto dello Sport. Nei giorni 19 e 20 gennaio a Milano si svolgerà il Milano Grand Ball Dance Championship. Le informazioni le trovate nella locandina e nella rete. Ci trasferiamo in Sicilia il 20 gennaio a Caltanissetta, a Gara Xen Centro Sportivo Educativo Nazionale, il quarto Dance Show presso il Palazzetto dello Sport Palacannizzaro, sempre di Caltanissetta. Gli interessati possono consultare la locandina. Rimaniamo in Sicilia perché a Catania, sempre il 20 gennaio, presso il Palazzetto dello Sport, si svolgerà il Crystal Dance XVI Trofeo Naxos, concorso nazionale open per le discipline per ballo in coppia. Veniamo adesso alla pagina regionale. Sabato 12 gennaio presso il Teatro Vigano di Roma si svolgerà, a cura dell'MSP Movimento Sportivo Popolare, il Festival del Fitness. L'appuntamento è alle ore 19 e 30. È sempre sabato 12 gennaio a Roma, presso l'Hotel Ergif, si svolgerà per il settore danza la seconda rassegna coreografica Roma Dance All Star. Veniamo adesso al Ballo da Sala. Domenica 12 gennaio presso il Maxi Dance in l'Infinito a Fiano Romano si balla con l'orchestra Sara e Sogno Mediterraneo. Domenica 13 gennaio ad Ostia, presso il Polo Natatorio, si svolgerà il campionato regionale finale invernale sui 25 metri. Sempre a Roma, giovedì 17 gennaio alle ore 21 e 15, ci saranno i campioni del mondo della All Style Swing Ballet, diretti da Sando Di Politi, per una lezione dimostrativa di swing gratuita. La lezione si svolgerà presso il Centro Tango in via Baldassare Castiglione 49 all'Eure, zona Montagnola. Domenica 20 gennaio a Palestrina, presso il Gran Salone Rondinella, si svolgeranno in occasione del Gran Premio del Lazio competizioni di danze caraibiche con reggaeton. Le informazioni su Facebook alla voce Fibes Roma. E per quanto riguarda il magazine del TG Dance, un annuncio per Cercasi Ballerina per Ballo in Coppia, 55-60 anni, principiante, zona Castelli Romani o Roma Sud. Informazioni al maestro di ballo al numero in sovraimpressione. Ed ora alcuni appuntamenti per quanto riguarda il ballo in radio e in televisione, martedì 8 gennaio, il Ballo in Radio, in diretta su Stapparadio alle ore 21. Per collegarsi basta cliccare www.stapparadio.it. Giovedì 10 gennaio, sempre alle ore 21, su Canale Danza, la puntata nuova della trasmissione Il Ballo in TV. Tutte le trasmissioni possono essere seguite nel sito ufficiale www.canaledanza.altervista.org. Per le scuole di danza che dispongono del settore agonistico, grande appuntamento per disputare il picampionato ranking del Gran Premio del Lazio Fibes. Gran Premio del Lazio, 21 specialità per ballo in gruppo, 6 discipline per ballo in coppia, con classificazione a punti e senza eliminazione. E per chi non desidera partecipare alla competizione, puoi iscriversi nella categoria Audizione. Se pensi di essere un ballerino completo, con attitudini e spirito sportivo, vieni a ballare nel campionato a ranking più avvincente, innovativo e con iscrizioni alla quota popolare di 6 euro. Tutte le informazioni le trovi digitando in rete la voce Gran Premio del Lazio, oppure su Facebook nel gruppo Fibes Roma. Gran Premio del Lazio, domenica 20 gennaio, vi aspetta alla rondinella di Palestrina, in provincia di Roma. Gran Premio del Lazio, dal 1999 l'avanguardia del ballo da gara. Non confonderlo con omonimi o similari. Gran Premio del Lazio, per una grande giornata di ballo, sport e spettacolo. Per pubblicizzare il tuo evento in maniera capillare, utilizza la rubrica del TG Dance Area Interviste. Avrai 15 minuti a tua disposizione per illustrare il tuo spettacolo o la tua attività comodamente presso la tua sede. Contattaci per fissare un appuntamento al numero 333 30 32 222. Nel caos della rete, scegli chi dispone 40 anni di esperienza. Chiamaci! Nel caos della rete, scegli chi dispone 40 anni di esperienza.